Come viene presentato Gesù? Dobbiamo dire che osservando il lancero dei quattro lanceristi vediamo che non hanno dato spazio nel presentarci la parte somatica, l'aspetto umano di Gesù, ma si sono preoccupati di riportare il messaggio della salvezza venuta a compiere su questa terra da parte di Gesù. E quindi però dal lancero noi possiamo tirare delle conclusioni. Di per sé dobbiamo dire che era simpatico, era attraente. Perché diciamo questo? Perché vediamo che le folle lo seguivano. Non poche persone, una carovana di gente che per uno, due, tre giorni lo seguivano dimenticandosi anche di mangiare. Questo significa che non era sgorbutico uno che allontanava. No, era attraente e simpatico. La stessa cosa possiamo dire dei bambini. I bambini lo consideravano come un papà, come un nonno ancora di più. Quando lo vedevano, correvano e li si gettavano ad abbracciarlo. Tanto che i discepoli cercavano di allontanarli e Gesù diceva lasciateli stare con me. Voglio che siano sempre con me. Camminava sempre a piedi e quindi aveva una saluta abbastanza forte. Aveva uno sguardo fulmilante da affrontare i suoi nemici, i suoi obiettori e stigmatizzarlo con le sue parole. Soffriva il caldo, soffriva il freddo, soffriva la fame, soffriva la sete. Allora vedete che Gesù, pur essendo figlio di Dio, è perfetto uomo e affronta quello che è la vita umana con le sue gioie e con le sue sofferenze. Soffriva il caldo, quindi soffriva il freddo e non aveva dove posare il capo, dice Vangelo. Cioè non aveva un'abitazione propria. Quindi la sera laddove si trovava si stenteva per terra con una stoia e lì dormiva. Aveva nello stesso tempo, non aveva paura di affrontare l'opinione pubblica, gli scribe e i farisei, non aveva paura di affrontare i ventitori del mercato, del tempio. Questi ventitori avevano trasformato il tempio di Dio in un grande mercato e li caccia e li allontana e getta per terra i loro soldi. È il figlio di Dio che si impone con le varie situazioni di abuso del popolo. E poi le sue parabole che sono frutto di riflessione. Gesù guarda i contadini e pronuncia la parabola sul seminatore che getta il seme nella terra. Quindi è l'uomo tra gli uomini che sviluppa anche le situazioni del lavoro dell'uomo. Dopo i trent'anni comincia la sua vita apostolica, affronta il deserto dove riceve le tentazioni, ascolta il Giovanni Battista che al Giordano lo battezza e lì la parola del padre suo, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatela. E' il miracolo delle nozze di cana che Gesù viene sollecitato dalla mamma sua. Non hanno più vino. Noi siamo madri di Cristo. Ogni volta che portiamo Gesù nel nostro cuore, nella nostra mente, noi siamo madri di Cristo. Siamo madri di Cristo. Quando guardandoci intorno vediamo che la gente soffre. Soffre la fame, soffre la sete, soffre la solitudine. Non ha nessuno con cui parlare e agire. E quando lo riceviamo nel nostro cuore e noi lo portiamo agli ammalati, anche noi siamo madre di Cristo. E quando lo riceviamo nel nostro cuore,